bello ragazzi sono giga e oggi dovrò suonare e più che altro adesso mi sto riscaldando devo riscaldare un po le dita e sono nervoso sì sono nervoso però non vedo l'ora di scendere in campo diciamo quindi a dopo bella rega lascia il mio launchpad ok c'è un po di gente però vabbè ce la posso fare un po di gente Grazie a tutti. 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 Bene ragazzi, questa è la mia performance, spero vi sia piaciuta, ma volevo aggiungere una cosa. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il vostro aiuto, senza il vostro supporto, senza di voi insomma. I miei iscritti che in pratica giorno dopo giorno mi danno un motivo per mettermi a suonare il launchpad e sono molto felice del traguardo che stiamo per raggiungere, sarebbe quello dei 1000 iscritti e delle 100.000 visualizzazioni. Non so che dire ragazzi, grazie di cuore, ci vediamo alla prossima. Ciao!